Un altro colpo messo a segno nell'Arettino dopo un'estate in cui i furti nelle abitazioni sono stati numerosissimi, stavolta ad essere preso di mira è stato il paese di Cigiano, frazione del comune di Civitella in Valdichiana. Qui ha preso il via proprio nelle scorse ore la festa dell'uva, del vino e dell'olio e durante il furto i proprietari dell'abitazione si trovavano a cena nella sala filarmonica del paese. Erano le 21 circa quando i vicini di casa hanno sentito dei rumori e poi un forte odore di bruciato. Hanno così avvisato il proprietario che una volta arrivato ha subito notato il garage aperto. Si è messo a gridare e così ha messo in fuga i ladri che si trovavano ancora dentro la sua abitazione. Non c'è stato contatto visivo, ci racconta, mi sono messo a gridare e loro sono scappati ma non sono riuscito a vederli. I malviventi, almeno due secondo una prima ricostruzione, si sono introdotti nell'abitazione passando dal retro, hanno tagliato la rete di recinzione e poi sono riusciti ad entrare dentro. Una volta all'interno hanno messo letteralmente a soccuadro tutta la casa in cerca della cassaforte che hanno trovato e aperto con un flessibile. Questo potrebbe essere il motivo dell'odore di bruciato sentito dai vicini di casa. Ancora da quantificare il valore del bottino, per fortuna, ci racconta ancora la vittima, molti oggetti che per noi hanno anche un valore affettivo non sono riusciti a portarli via. Sul caso indagano i carabinieri.